Lampada al plasma Lampada al plasma L'esperimento di elettricità senza fili No, non sul tuo video, attenzione Vediamo un po', vediamo una comune lampada non è comune, una lampada al led questa qua, se la avviciniamo alla lampada al plasma si accende ok poi prendiamo un'altra lampada al led perché si è uguale si accende anche questa questa qua invece è una lampada a risparmio una lampada a gas anche questa qua si accende la lascio qua, così i carri si rompe ci rimetto 5 euro ok, vediamo se accendono tutte e due o magari tre si va a posto lampada di tesla ciao ciao a tutti arrivederci, non fatelo perché è pericoloso ciao ciao